Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Mario e Luigi Fraternauti alla Carica. Abbiamo affrontato altre due isole molto belle oltretutto, una di ghiaccio e fuoco e una soltanto di fuoco, meglio di lava, e mentre le abbiamo affrontate ragazzi abbiamo fatto solo cose maggiori, effettivamente abbiamo saltato qualcosina, purtroppo ho anche notato però che, ebbene sì, comincia a essere un po' più difficile affrontare certe cose, perché? Perché ho un po' saltato le secondarie, almeno per adesso, e qualcosa mi dice che se voglio continuare a, diciamo, fare le cose decentemente, mi sa tanto che... eh sì, guardate, non è possibile che siamo a metà del... cioè, che siamo a l'ultima zona, no, manca ancora molta roba. Vabbè che questa l'abbiamo quasi finita, quindi può darsi che il faro sia vicino. Però, boh, ci sono alcune cose che non mi spiego. Vabbè, comunque, sentite, qualcosa mi dice che dovremmo fare un po' di secondarie, sì. Eh sì, le secondarie sono su tante isole diverse. Allora, sentite, facciamole molto velocemente, ok? Cioè, cerchiamo di farle il più velocemente possibile, queste secondarie. Vediamo che cosa ci porta, vediamo che cosa ci dà. Probabilmente non tanta esperienza, perché il punto sarebbe fare gli scontri, con tutta probabilità. Però ci sono degli strumenti, nell'andare di qua e di là probabilmente affronteremo degli scontri, per l'appunto. Vediamo dov'è. Ah, sta lì, quindi devo prendere il tubo. Aspetta. No. Andiamo nella piazza. Aspetta. No, no. Sono andato troppo in là. Silenzio. Ah, ma io vi conosco, siete Mare Luigi, vero? Tutti parlano di voi. È capitato al momento giusto, mi servirebbe un favore. Non è niente di che, dovesse solo consegnare un pacco. Cosa contiene? Non posso dirvelo. Che è diretto o segreto? Posso solo dirvi dove consegnarlo, il resto è riservato. Mande? No, quindi accettate di aiutarmi, naturalmente vi ricompenserò a dovere. Cos'è diretto? Cos'è diretto il tuo amore? Non mi aspettavo che qualcuno accettasse senza fare domande, eh già. Dovete portare il pacco dentro un edificio, sull'isola ben si sta. Riceverete il pagamento là. Moneggiatelo con cura, dentro c'è il mio capolavoro. Oh, ricompensa e medaglione d'oro, ok. Andiamo su un'altra isola. Andiamo in ordine. Ah, selva fitta. Vai. Un po' che non ci torniamo qua. Ah, è proprio qua dietro. Ah, è proprio qua dietro. Guarda un po', siete i primi sfidanti che si presentano. Sfidanti. I mostri, creatori di finite potenzialità, concentrazione pensate solo alla vittoria. Vengono tutti nel mondo delle battaglie estreme. Cioè? Secondo membro del camp è Mostromania. Noi mostromania amiamo i mostri e loro ricambiano l'affetto. Noi del club passiamo la giornata a studiare i mostri e i loro habitat. Anche all'interno della stessa specie esistono variabili incredibili. Varianti incredibili. Immaginate i mostri con una difesa potentissima, anche senza difese. Mostri agli occhioni dolci e volte affascinanti. Di recente abbiamo scoperto una variazione spettacolare, doppiamente pericolosa. Piantagrani e idromutanti. Se vi sollevantano un recupero di danni invidiabile, meglio di così non si può. E in più si sono appena tracannate lo sciroppo. Forse gli hanno dato un po' troppo, così non sentiranno neanche il solletico. Un po' paura possono scappare e fare qualche disastro. Non potete sconfiggere il prima che ci accada, in cambio vi darò una ricompensa. Sempre che ci riusciate non sarà facile, vi avverto. Ah, mi sa che è una di quelle sfide speciali, cioè con mostri molto potenti. Quasi invincibili piantagrani e idro. Proviamo. Ultra sciroppo. Oh, fagiolo baffi, ok. Mostro dei mostri. Piantagrani e idro. Vi sentite all'altezza e insomma vivete di fuggire. Ok. Vediamo come va. Di che livello sono, soprattutto. Oh, sì. Ops. Non fanno tantissimo danno. Ok. Ovviamente. 9, 9, 9. Ah, ok, ok, ho capito. Devo ucciderle a colpo secco. Livello 25, ok. Vediamo a vedere, va. No, c'è il doppio salto. Mi scordo sempre. Ok. Ehm. Va un po' vedere sta cosa. Ok. Proviamo. Devo usare le cose a bersaglio singolo. Allora, vediamo un po'. No, ma vabbè, ma che cazzo. Va bene, ok. È inutile. Lo devo one-shotare. Che palle però, dai. Uscio rosso. Vai, proviamo. No. riproviamo un po quanto è scomoda sta cosa ora cerco di saltarli eh ciao tanto cura tutto subito non va bene non va bene dovrò tornarci in un altro momento niente da fare e lo recupero i danni è troppo per le vostre capacità sembra tutto tronfio non credo che si attinga a dibattere i miei piantagani idolo ora come ora dovete scoprire come bloccare e lo recupero i danni altrimenti non ce la farete a meno che non abbiate determinate spine sinergiche quando vi verrà voglia di affrontare i miei bestioli fatemi un fischio ok va bene questa è una cosa particolarmente scoglio no 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 vabbè adesso lascia perdere lo scoglio allora va bene questa d'accordo desola ah ce ne sono due qua povera me non ci riesco ce la faccio più cosa no forse voi potete aiutarmi sono un po' vecchio per certe cose il figlio ormai è grande non vuole saper niente lavorare avevo persino trovato un lavoro non ho apprezzato la cosa anzi è scappata a gambe levate l'energia per correre non gli manca ma quando si tratta a lavorare non ce la fa sentitevi vi piace aiutare la gente potesse ciuffare mio figlio non è sausta vi prego aiutatemi scusate il pelandrone sarebbe lui ah ehi è lui mio figlio prendetelo forse so dove vuole scappare se lo perdete vista venite pure a parlarmi figlio fuggiasco oh due fagioli velocità ok questo è figo però che coglioni questi sono di livello molto basso credo dai su pronto dai non mi dà neanche niente no d'ora in poi faccio fuga con i mostri così let's go let's go wow ancora vedete no voglio la torta voglio la dolcissima opulenta ma dai succo di cactus è meglio abbastanza dolce ho detto che voglio la torta dolcissima opulenta è la migliore ma piantala niente torta mi spiace ora basta capricci anzi che ti dici se ti prepara il budino di cactus poi non dire che tua sorella non ti vuole bene no 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 il cactus non è abbastanza dolce di sicuro non è opulento torta dolcissima opulenta va bene sull'isola non c'è neanche una pasticceria c'è una sull'isola ben si sta e tra l'altro pare sia ottima va bene dove sarà finito il tizio eccolo no 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 dove sarà andato prendili dai dove ci stai mi sa che è dentro la casa no 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 che palle no va bene dai basta no ti prego non attaccare secondo me è qua dentro oppure no no non credo forse oh mio dio dove cavolo è me lo sono perso allora era andato di qua no 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 non sopporto più no assolutamente no raga c'è mi sono veramente rotto le palle perdonatemi veramente no 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 cercherò di sulle nuove isole uccidere tutti quanti i mostri il più possibile ok per compensare l'assenza degli scontri in più eccetera ma mio dio veramente veramente no cioè no grazie grazie ok 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 oh no no roccia doccia sì il pesce doccia quello bellissimo ok e per bellissimo intendo orribile ma faremo un sacco ridere ok andiamo qui andiamo alla nuova isola no davvero perdonatemi non ce la faccio è veramente è troppo ok andiamo ecco di qua isola glacea bye isola glacea oh inc si gela dal freddo cos'è quel coso mi pareva aver visto precipitare al cielo uno strano ammasso di roba momento eravate voi con lo strano ammasso state isolando le isole ah 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 divertente eh non era una battuta assurda quanto ne so nessuno può ricollegare l'elettria senti un po' questa è l'isola glacea giusto? proprio lei in neve e ossa scusate la freddura ah 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 perdere. Vai. Qua da questa parte. Oh no, ci sono pure loro. Visto di Goomba qui attorno. Scoviamoli presto, andate a quella parte. Io perlusserò questa zona. Sì, signore. Oh, cavolo. Perché ho idea, ho sempre più la convinzione che uno di quelli che dovremo affrontare sarà Bowser. Vediamo un po'. Le uniche. Martello introverso. Wow. La rispingente ce l'ho, ma il martello introverso no. Meno sono i nemici, più i danni che infliggo. Eh, vabbè. Ma 2003... Ah, ok, 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 aspetta, ci arrivo. Oh, ok, ok. Le sinergiche Facciamone una bambera Esplosione Perché me lo fa rifare? Cos'è un potenziamento? Questo mi interessa Ok Molti di questi sono in cazzetti neri Sono quasi tutti corrotti Chi siete? Andatevene Stiamo cercando i tizi un po' strampalati dentro un edificio Trampalati sarete voi Ora allargo, circolare, ordini miei Il capovillaggio è l'isola Ma allora Alfredo è tuo figlio per caso? Non parlatemi di Alfredo Per quel che mi riguarda non è più mio figlio Ora levatevi di torno Niente da fare Non ne caveremo molto Qui sono stati tutti infettati all'isolantium Anche in altre isole sono comparsi No aspetta Fatemi prendere quelle cose Niente No lasciatemi andare Non colpitemi con questi strani raggi Ah, voi combattete contro i tizi strampalati? Perdonatemi per poco fa il porco E vi porgo le mie scuse Ma che ce l'hai con me? Sì, sei un maiale Vabbè, non importa Parlaci di quegli stani raggi piuttosto Ho visto cosa faceva quello lì Aveva una specie di macchinario Con cui colpiva tutti I miei amici sono stati colpiti a raggio Sono diventati irascibili e intrattabili Io ero spaventato Così mi sono allontanato più che potevo Mentre il tizio strampalato non c'era Sono anche andato a spiare il suo nascondiglio Ho solo visto all'esterno Ma sembrava una specie di laboratorio segreto È sull'altra sponda di questo lago Grazie alle informazioni Ok Però fatemi tornare un attimo indietro Perché ho visto cose Vai Che che ne dica quello Rompi le casse Grazie Super sciroppo Benissimo Strumenti Io non li compro mai Oh No Aspetta Faci tu Perfetto Ultracaramello Ok Ok aspetta però Come faccio ad andare via da qua? Mi sa che devo Se Ok Non ho fatto in tempo a dargli la martellata Purtroppo Oh cos'è quello? Bellissimo Grazie Ok si comportano come dei mostri Che abbiamo già visto Ok perfetto E quello invece? Spunzo Eh poi le regali con le spine E poi le regali con le spine Bam Ok Ok Triple leak Triple leak R Ops È vero È finito l'extra attacco Merda Aia No No Vabbè è andata bene lo stesso Palla di neve di glacea Ok Ok Grazie Sì Sì Fanno avanzare un bel po' Oh cacchietto Oh cacchietto Oh cacchietto niente ma peccato lo stesso è la prospettiva ogni tanto l'incasino come sempre molto meglio questa prospettiva qui grazie no che che malefico vabbè grazie a dio gli è tornato in faccia grazie cos'altro abbiamo lì tanto un po ne dobbiamo affrontare per forza se non non aumentiamo abbastanza di livello vai che palle I loro attacchi sono fighi però cavolo se sono lenti Dai Ok perfetto Oh è aumentato Luigi Bene Oh lui Guarda un po' Mi stavo aspettando Il laboratorio è chiuso Il cartello cosa ci sarà scritto Laboratorio segreto è il genio sconnettieri Il grande inimitabile Volter Ah per piacere c'è scritto laboratorio segreto Un grosso cartello ci mancano solo le luci al neon Forma ricorda la testa di quell'imbranato Qualcun tizio potrebbe fare il comico invece di spegcare tempo con questo laboratorio segreto Ehi smettila Che succede Aiuto Non hai speranze Oh oh Stai cercando di tenermi impegnato in attesa di questi mezzi baffetti Esatto è proprio indovinato Mario Luigi fategliela vedere voi Che fegato E va bene specie di fulminato facciamo un po' di riscaldamento Oh ci trova da ridere Ritirata strategica Ah ok Ehi torna indietro Che tipo Credo sia scappato verso la cima della montagna Seguiamolo Vabbè è abbastanza evidente che devo affrontare lui no Ora però Un attimo eh Perché In realtà Ho lasciato indietro un sacco di roba Non è questo Per raggiungere il sentiero per il fiorfaro e superare questa collinetta Vabbè intanto ho visto questi Sicuramente Ops Oh no Oh no No Va bene Ok si Una pausa Sì va bene Chiacchiere Scusate posso Schippo tutto molto velocemente Scusate ragazzi ho saltato tutto perché veramente No Grazie No Allora Fatemi vedere un po' Dove siamo Ah qua non ci si può proprio andare Ops 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 Grazie per fungo, ok. No, ancora non è... Mannaggia. Questo? Questo non... Non... Che questo fiore fa così? Strano. No, 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 no. Oh, caniseria. L'ho schivato all'ultimo. Ok, perfetto. L'ho menato. Ecco, quello però è un po' bastardello. Ghiacci de Isolantium Esia. Eh, guarda, è impossibile prenderla quella. Quella, quella è davvero impossibile prenderla. No. Allora, il secondo, eh. Eccco! Oh, yeah! Grazie. Allora, qua ce n'è un altro che bo... No, non è ancora attivabile. Uo, e tu... Mannaggia. Da certe angolazioni i nemici le ti... Tu ci capi, ti vedi un secondo e poi... Che è? Oh, porca miseria. Malissimo. Oh, yeah. Per l'amore di Dio. Eh, sì, purtroppo sti scontri li devo davvero fare perché sennò qua finisce male. Vabbè. Vabbè. Ok. Sì, sono di livello sufficientemente alto e sono un po' bastardi. Qua non si va da nessuna parte. Allora, vediamo cos'altro ci manca. Eh, ma tutta quella parte non ci posso tornare più, mi pare di capire. Quella da cui sono caduto. Lì. Eh. Io vorrei ritornare lì. E invece no. Non ci posso tornare. Vabbè, intanto tu. Guitalo pure. Ci pensi a fare la guardia qui. No, non ho paura. No, no. Assolutamente. Fermi. Cosa fermi? Dopo controllare la portola. Adesso dobbiamo formare volte. Ok. Va bene. Ok. Abbiamo capito. Aspetta. Ma sì, dai. Chi se ne frega. No. Che ventaccio terribile. No, altra idea di Luigi. Azione, fratelli, palla. In effetti che dobbiamo una sfera sarebbe più aerodinamica. Ok. Vite quasi. Che va davvero poco. No, eh. Che c'è? Se lui aveva una spinta maggiore, sentite questo potere dentro di voi? Ah, attenzione. Mo' che succede? Ah, va bene. Va bene, figata. Fantastico. Oh, yeah! Siete stati bravissimi, grazie, grazie, grazie. Cumula di energia. Va bene, va bene, va bene. Colpisce il mio giocatore a scatto per iniziare lo scontro di un attacco preventivo. Ok. Va bene, figo. Boss fight? Preso. Complimenti, avete trovato il mio laboratorio segreto. Peccato che sia tutto inutile. Perché? Perché le ricerche si sono già concluse. E non l'hanno portato a nulla. Ma... State un fallimento? Per forza, cosa posso mai combinare se sconti e si tiene tutto l'isolantium? Meno adesso che le briciole infinitesimali che riescano a cimolare. Oh, poverino. Ma non mi arrendo, un giorno sarò io il capo, il genio che ordisce tutti i piani. Vedo che arrivi quel momento. Sognare non costa nulla. Setti voi. Come posso fare? Non ne ho la minima idea. Sconet è un enigma. È come se non bastasse e non conosco i suoi veri piani. Cioè, il tuo capo non si fida di te? Fermi un momento. Cosa vuole adesso? Guardate là. Da quella parte. No, non così. Dovete continuare a guardare di là. È precipitato. Non è capace a volare? O torna su con l'uccellaccio un'altra volta? Sì, infatti, eccolo. Avrei dovuto guardare meglio io prima di saltare nel vuoto. Ma comunque, alla prossima, mezzi baffetti. La vostra fine è solo rimandata. Ancora. Per l'ennesima volta se ne va. Ed ecco che toglie il disturbo. Chi lo capisce è bravo. E si controlla il laboratorio? Non ci ha appena detto che le sue ricerche sono fallite. Hai ragione. Meglio non fidarsi di quello svitato. Andiamo al laboratorio. Ok. Punti sulle mie geniali ricerche. Il luminare contiene un'energia negativa. Una volta amplificata e fatta maturare, adesso è possibile stare all'isolantium. I soggetti esposti all'isolantium si riscontano il desiderio di isolarsi dai contatti sociali. La ricerca manca ancora in conclusione ma dati sono più che incoraggianti. Caso esposizione all'isolantium occorrono misure precauzionali. Potere di questo tipo richiede un antidoto. Sull'isola Ardea dovrebbe esserci un tale nome Vulko che ne conosce uno. Andrò subito a cercarlo e farmi insegnare tutto quello che sa. Caspita, ha appeso un suo ritratto. Al posto suo mi vergognerei. Viene che qui abbiamo finito. Andiamocene. No, aspetta. Cos'è questo? Me ne devo davvero andare? E cos'è questo? Ah, mi sa che... Mi sa tanto che... ci tornerà utile in seguito. Forse. Che razza di laboratorio è? C'è ma più un ammasso di pacottiglia. Mario, Luigi va tutto bene? Principessa Piccia, sono io teppici. Penso io a Mario e Luigi. State tutti bene, meno male. Capisco, il laboratorio si è rivelato un vicolo cieco. Ma se un altro è valsa la pena di provare. Potete cercare di tornare sull'isola sul Camari ora? State attenti per favore, Ienelli. Veglieremo su al freddo e fiammetta. Va bene, sì. Dobbiamo andare là. E so anche dove passare. Perché ora la nuova abilità della palla. State andando al fiorfaro per isolare l'isola. Tenete gli occhi aperti. Oh no. Ecco appunto. Non li vedo da nessuna parte. Ancora niente? Purtroppo no, capo. Devi muovermi. Muovervi, cominciò ad avere fame. Agli ordini, signorino. Capo? Aspetta. Ah, forse è il piccolo Bowser. Ah, forse è il piccolo. Ma è uno di quelli indemoniati, purtroppo. E ce n'era anche un altro di là. No! Sbagliato proprio quello che non dovevo sbagliare. Ah. Oh, grande. Perfetto. Non è che fosse proprio fondamentale. Però dai. Ho detto che li affrontavo tutti. Non glielo faccio. Non glielo faccio. No, aspetta. Strike. Oh, grazie. Sbagliato. Oh oh Grazie È andato un po' più veloce Ah forse non serviva No non serviva Non serviva assolutamente Assolutamente non necessario Eh vabbè Ah forse non serviva Exatto Oh yeah Oh yeah Quanto lunghi sono Gli attacchi Madonna di nuovo No l'ho saltato Grazie Eliminiamolo questo Ogni tanto non fanno niente Rimangono gli interdetti Il che è bene Grazie Eh qui Qui non ci si può andare Almeno non ancora Forse Tra parentesi Esatto Grazie Qualcosa mi dice Che qua c'è tutto Un nuovo livello Che freddo Vediamo un po' L'uscita è Ecco appunto Sì Di là Sì Benissimo Usciamo di qui Eh sì Lo so Bisogna accumularne un po' Mi sa Può passare su quel ghiaccio Con uno sforzo Adesso ci saranno sicuramente gli altri mostri Ah aspetta Che è qua Ghiaccio sottile Eh sì ma Un attimo Prima fammi girare un attimino Vediamo cosa c'è Questo Credo di sapere dove va a parare sta cosa È un puzzle Tutto un sistema di puzzle Sì Non è che sono tantini eh Ok Un'occiolina Eh ma Aspetta un attimo Non è che ne arriva un altro da qualche parte No No Aspetta un po' Perché questo se ne va giù Bello preciso Infatti ecco Ok Ok Oh ma guarda un po' Eh Un altro bel pezzetto Solo che mo' devo ricominciare Oh yeah Oh yeah C'è le pivou ok C'è le pivou ok C'è le pivou ok C'è le pivou ok Sono Ah No, che cazzo Ah, ok, ok, torna qui Ok, ok, ok Eh, ok, però c'è un piccolo problema qui Eh, sì Ok E dove va? Ok Ok, 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 ok Perfetto Va bene, vai Ci siamo E adesso mi sa che ci sarà lo scontro con le tartarughe brutte Perché brutte non sono, sono tanto tenere Però sono malefiche E infatti, guarda cosa abbiamo qui Grazie, aspetta, prima di salvare però Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi Ah, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi, Mario E daglione d'oro Ok E il tubo Ah, proprio inizio inizio Perfetto Oh, no Ah, tutti i funghi Che freddo Fate una ragione Prima o poi verranno a prenderci Ma ci troveranno così ammucchiati? Magari ci scambiano per delle rocce Oh, oh Eh? Ma quelli sono Ma Mario, Luigi Sì Salve Goomba Ecco i Goomba No Ci sono anche Mario e Luigi Andiamo in soccorso Chiamo tutti a raccolta Ma che ci fanno qui? Non importa, sconfiggiamoli Li sistemiamo noi Anzitutto Avete affrontato i miei battaglioni di Goomba Quando ognuno è al tappeto Riceviamo aiuto immediato Non ci siamo fatti così Non ci abbattete tutti una sola volta Non avete possibilità Provateci pure Come faccio a sapere quando saltano Maledizione Vabbè Beh Comunque A proposito Conralno Lùi Come faccio a capta La Ma Non 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 Ok Perfetto Meglio di così Oh no Non vi montate la testa solo perché avete sconfitto il battaglione dei Goomba Sappiamo tutti che sono dei buoni a nulla Ora dovete vedervela col plotone dei Koopa e Paratroopa Peccatevi questa ondata di attacchi Spazzeremo via No E' andata malissimo Mannaggia a me Tuono dinamico assolutamente Vai Spina Spina Perché questa è piuttosto importante Perfetto Andata molto bene Ho guadagnato un cavolo Di esperienza Ma dove sono spariti tutti? Ecco Bowser Junior Lo sapevo Dove siete? Dovevo radunare gli scagnozzi E fare bella figura col papo Non toppa fame Tornerò al castello La navicellina di Bowser L'ho sempre adorata E anche odiata Nei Super Mario Quelli storici Però Però è troppo bellina Vai L'ho sempre adorata Perfetto isola glacea ah ok mi sa che c'è un po' più spazio di quanto pensassi mi sa che c'è spazio ancora per due, tre, quattro isole o anche cinque perché c'è spazio anche un po' di là forse non ne sono sicuro ma c'è tutto un altro mare gigantesco mi pare strano che non ci siano altrettante isole dovrei essere a tipo meno di due terzi bentornati a questa parte presto dottor Vulk è pronto per curare il principe al freddo i netti sono già lì andiamo i netti sì ricordiamo il nome umf allora dottore è grave? siamo ancora in tempo per salvarlo un rimedio da somministrare per via orale mastico una mezza dozzina di volte e poi ingoialo munch 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 gulp che mi è successo? al freddo? sei tu? il mio al freddo? grazie ai medicini gli hai dato un frutto particolare che cresce solo sull'isola distante l'isola distante si chiama confruttore ne ricevetti un paio come souvenir tempo fa riescono a sciogliere il gelo che avvolge i cuori afflitti dall'isolantium al freddo? parlami mio dolce fiocchettino di neve voglio morire oh non riesco a capire cosa stavo facendo oh al freddo l'isolantiumore non sarà più un problema il dottor vulco è incredibile eh no sarà un problema perché ce ne vuole una marea puoi ben dirlo ho la mia nutrita dosi di dubbi in proposito ma per fortuna oh inc niente non fateci caso mi aspetto una vagonata di pazienti meno male che abbiamo scorti sufficienti di confruttore ah ce l'abbiamo allora ok ma come ho fatto a ridurmi in quel modo? non ho mai commentato le sillabea con accento italiano a vanvera che Mario e Luigi pronunciano da cosa? isolantium ci suonerà strano ma è tutto vero non preoccuparti comunque Mario e i suoi amici hanno risolto il problema non voglio mai più separarmi a te e starmi insieme per sempre ti lascerei neanche per tutto l'ora il mondo fiammetta ti piace essermi comportata in quel modo si 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 va bene rieccoli persi di nuovo nel loro mondo beh almeno hanno fatto pace è giunto il momento di annunciare il nostro matrimonio di già? così all'improvviso? ma no ne parlavamo già da un bel po' di tempo vorrebbe vedere la cerimonia si terrà sull'isola gelavica il mondo intero assisterà alla celebrazione il nostro indissolubile legame uniremo i nostri rispettivi popoli e la pace regnerà per sempre mi chiedo se funzionerà quasi tutti gli abitanti dell'isola Glaccia sono stati colpiti all'isolantium ripenserà il mio rimedio prevedo una lunghissima fila di pazienti ma li curirò tutti dal primo all'ultimo ci libereremo dall'isolantium e festeggeremo il matrimonio i piccioncini con un confruttore il piano perfetto il dico problema è che non abbiamo nessun piano per la cerimonia se vi viene in mente qualcosa siamo tutti orecchi no ma certo la torta annunziale non può assolutamente mancare una coroncina di fiori per me e la regina della cerimonia ottima idea cos'altro possiamo preparare per il matrimonio ma magari potrebbero lì e nessuno li vede senti senti un matrimonio pensiamo al modo migliore per rovinarlo certo io ho l'idea giusta sul serio un'idea così geniale da uno come te mi pensa a metterlo ma è davvero un'ottima idea e va bene Ampere occupatene tu vediamo cosa sarà in grado di fare ah non vi deluderò parola mia non lo sentiamo parlare con delle frasi di senso compiuto per la prima volta proposito di torte ne fanno una spaziale sull'isola Glacea a base di nutricrema fresca ricavata dalla neve montata bisogna assaggiarla per capire quanto è buona il problema la torta è risolto ora dove possiamo trovare una bella coroncina di fiori magari gli artigiani dell'isola Florica ci saranno d'aiuto che ne pensate? oh yeah ok altre missioni secondarie disponibili e non me ne frega assolutamente nulla di niente e però mi sa tanto che allora a proposito c'è qualcos'altro? no ah a proposito non possiamo andare da nessun'altra parte perché questo ancora non si ricongiunge abbiamo fatto tutto quanto e quindi non resta che fare esattamente questo giusto? sta cosa? ma gentili clienti sentito bene si terrà un matrimonio allora potrei esservi d'aiuto si è già sparsa la notizia bene sì servono una torta e una coroncina di fiori sai dove possiamo trovarle? siete fortunati guardate un po' questo volantino che avevo casualmente con me ora devo andare sono impegnato impegnatissimo vediamo un po' che cosa abbiamo qui e nessuno ovviamente si accorge di niente va bene quindi cerchiamo una torta l'isola Ben Sista fa il caso vostro ritrovete un pasticcere fama mondiale capaci cari di avere i propri capolavori le torte soddisfano perfino gli esigentissimi abitanti dell'isola Ben Sista peste matrimoni qualsiasi evento vogliate organizzare il successo è garantito ma non dimentichiamo un altro elemento fondamentale la coroncina di fiori le migliori si trovano senza dubbio sull'isola Selva Fitta che indossare gioielli quando esistono simili bellezze completamente naturali da un giorno ancora più speciale con una splendida coroncina di fiori schietto così l'isola Ben Sista è l'isola Selva Fitta non mi dispiacerebbe tornarci sembra sospetto troppo bello per essere vero ora che ci penso poteste aver ragione sarebbe bello gironzolare un po' ma non abbiamo tempo possiamo ordinare soltanto una torta e una coroncina di fiori dobbiamo essere sicuri di ciò che vogliamo signor Mario e signor Luigi mi riccherò sulle isole dei due fidanzati penso che i rispettivi genitori debbano essere al corrente delle nozze però l'isolantium che per vada le isole potrebbe complicare le cose accompagnerò io non temete ok allora tanto per cominciare ok bene allora le secondarie le faccio soltanto se sono quelle che scadono ok ho appena deciso così vediamo se c'è qualcosa di nuovo qui cappe uniche tutta l'unico tutta unica no ok ho già tutto quello che mi serve perfetto consiglio consiglio dell'amicio del mercante ah aspetta scusate un attimo eh no un secondo isola glacea e florica ok 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 ovviamente seguirei consigli degli amici allora cominciamo dall'isola florica non mi da missioni però mi da solo le secondarie credo occhio e croce come aveva detto ingegna il uso a florica c'è un artigiano che può farci una coroncina di fiori cerchiamolo eccolo lì sta lassù qui non c'è neanche un tubo per esempio è strano che non ci sia è strano che cosa un altro Dov'è che siamo? Eh, quasi, ok Oh no, aspetta No, 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 no Pensare minimamente No, 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 no Cosa? Oh yeah Questi non erano aperti ma davvero? Ok Aspetta, è lui? Che be' fiore ho fatto bene a venire qui in cerca di ispirazione Salve, gentiluomini baffuti Mi presento, sono un umile artigiano specializzato in coroncine di fiori Ho seguito la mia formazione sull'isola Rocinia ma ora lavoro in proprio La misiera è adornare la testa delle spose di tutta l'elettria Ah, avete un favore a chiedermi? Nessun problema, spostiamoci al mio angolino preferito Capisco, quindi vi servono coroncine di fiori per un matrimonio? Un matrimonio qualunque, quello è la principessa ardese Ma certo che accetto, vi siete affidati al migliore sulla piazza, preparerò la coroncina La farò spedire puntuale agli sposi, non temete La principessa non resterà delusa Bene Coroncina di fiori pronta Benissimo, ora pensiamo alla torta Cos'era? Isola Glacea, giusto Perfetto Questa è oltretutto fresca fresca proprio Allora, Dorastella ha detto che sull'isola Glacea si trova uno strano ingrediente Pare che lo usino per preparare la loro torta alla nutricrema fresca Signor Mario, signor Luigi, siete venuti a cercare la torta? Come? Eravate preoccupati per noi? Non temete, ce la caveremo, stiamo solo decidendo la strategia Gentile non me ne abbiamo dato, operazione testa dura Facciamo a perdere l'isolante un per ora, qui si tratta il matrimonio di suo figlio Capovillaggio a un po' ignorarci Useremo tutto il nostro potere persuasivo per convincerlo ad assistere alle nozze Vi non preoccupate per noi, ce la caveremo da soli Ok Siamo in speciale a tempo limitato? Allora forse Forse è davvero il caso di farla subito, sapete? Figlio, ora che mi fate pensare ne avevo uno Ma come fa a essere così freddo? Io ora al freddo sta per sposarsi Ma al freddo, ho presente di chi parli Mi è fatto passare per uno sciocco e non è l'unico Anche gli isolani mi detestano Non mi importa un fico ghiacciato il matrimonio di mio figlio Condina Che disastro, come facciamo? Caccingola Tutta colpa dell'isolantium Le persone non si parlano più Non si guardano neanche in faccia Non fanno eccezione neanche per i propri familiari E si spezza il cuore Preto, secondo te c'è speranza che la gente guarisca? Sì, se non gli dai prima il frutto Vabbè Ma certo che c'è, andrà tutto a confie vele Almeno spero Ok Un raggi agli altri non possiamo più aiutarli Sì Temevo C'è? Vedete che nei cuori gentili Si nascondo una grande forza Vede fiducia alle mie capacità? Io sono sempre allegro Esco a motivare tutti con l'entusiasmo Oh mio Dio Faccio davvero questa impressione? Yes Ma il signor Luigi, grazie Devo cercare di scalfire questo muro di indifferenza Proviamo Anzi Mi ha tornato in mente una cosa L'ho sentito quando sono stato spazzato via l'isola del faro Momento storia? Mi sa di sì Questa è una secondaria tecnicamente Ma siccome è a tempo limitato la faccio Raccogliete energia negativa per riportare in vita Volete più energia negativa Beh? Che storia è? Così? Così? Non sono per niente bene Temo che succederà qualcosa di brutto Raccolgo energia negativa Ma cosa significherà? Non possiamo permettere che ci allontanino gli uni dagli altri Il matrimonio sarà un successo E gli invitati lo festeggeranno in armonia Sì Cacciate l'ingola il frutto E voglio provare a parlare Il frutto Non capisco Guarda veramente Vabbè Ce la faremo Poi pensate preparativi per il matrimonio Va bene? Guanti vel Della luce Ok Vabbè No Questa è fatta Una maniera o nell'altra Ah Lassù c'è la secondaria Ma non me ne frega assolutamente niente Quindi Ah Aspetta Ah ok Di qua sì Aspetta Grazie Anche tutto Mi sa che ce n'è anche un'altra Un attimo Ah Altri due Anzi Anche le posso creare come le spine Non capisco Già È Potenziata Ah È per È per sostituirla Eh sì eh Ok Adesso ho capito Vedi come funzionano Quei fiori Siamo assaltate E poi in altri Inclusivisco molto Peccato che sono sempre coperti di nevi Ci vorrebbero aspirare polvo Per risucchiare Velo stato di neve Al momento che volete una torta nuziale Alla inutile crema fresca Oh E prepararvi al certo Se solo avessi tutti gli ingredienti Cos'è vero? Cos'è vero? Cos'è vero? Cos'è vero? E tu vuoi? Ecco vedete Mi manca la neve montata Di solito se ne trova sul monte nevato Nel nord ovest dell'isola Mi porteresti un po' di neve montata In cambio del favore Preparerò la migliore torta nuziale Alla inutile crema fresca Che avevate mai assaggiato Ok Ma proprio lì eh Ok Ah aspetta aspetta Non dovrebbe essere un problema Perché adesso c'è La scorciatoia qui Esatto No 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 Non me ne va Non me ne va Non me ne va Non me ne va Ah giusto si Aspetta Aspetta Ci siamo Oh 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 Che figo che è Viene montata Questo ingrediente Un po' mancare In una torta nuziale Che si rispetti Ma fa venire voglia Veramente Oh Oh Ok Vabbè, salvataggio, chi se ne frega No, 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 no Aspetta, posso passare da Ecco, troppo tardi Vabbè, dai, sto combattimento lo faccio Aja, no, che due palle Ah sì, dai, facciamo Finchia, non è bastato Grazie, vabbè, se non altro ci porto un po' avanti con l'esperienza Ok No, 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 no Appena deciso Minchia, ancora vivo Non ci credo Ok Ok Il problema è che evitare i nemici In quest'altro modo sarà veramente complicato Non ce l'ho fatta miracolosamente, grazie Via Yeah Quella è della neve montata Allora l'avete trovata Beh, grazie infinite Adesso potrò preparare una torta nozzare con i fiocchi E ora zucchero a volontà Un pizzico di polvere di diamante Non di diamante Va bene, ti lasciamo lavorare Preparaci la tua torta migliore, per favore Sarà fatto Quando è pronta la manderò direttamente agli sposi Torta e la coroncina di fiore sono state ordinate Ora si può celebrare il matrimonio Ok Yeee Bene il tempo per le nozze Tutti sull'isola Gelavica Una missione secondaria in avventura Dibattiti importanti sul Camari Vabbè Facciamola Va bene l'isola Gelavica Poi ci sarà probabilmente una grande Katzin Non so se ci sarà qualche combattimento Non ne ho idea L'orta ce l'abbiamo Con i cennifiori ce l'abbiamo Tutto è pronto per la cerimonia Sficciamo subito sull'isola Gelavica Sì 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 Allora Facciamo questo intanto Allora Origlia la conversazione Dov'è che dovrebbe essere? Questa qui Grazie a me di dibattiti importanti Molti battiti degli ore di vecchi tempi Ok Mostri tremendi Non credo Spostiamoci in spiaggia Ok Allora ok è questa A rifletterci su Stavate ascoltando? Questa è una discussione top secret Vasta partecipazione non è richiesta Ok Avvicinatevi non origliate Da maleducate Anche da bifolchi Quindi continua Ho detto non origliare ma Rosso verde Da qui si sente tutto Origliamo? Sì Parliamo di chi ha più stile Non riesco proprio a farmi un'idea La mente adoro i rosa Certo rossi e verdi non sono male Ma non c'è confronto con il rosa Nonostante il vestito rosa Proprio come la principessa Pitch La cosa mi fa piacere Ma il motivo principale è che Qualsiasi altro colore Non mi salta tanto bene Bella sensazione Per uno stile Ti avvicina alle persone che amiri Tu che ne pensi in genere Anche tu hai dei gusti interessanti Fatto di moda Oh non mi pare A me basta un semplice camice bianco Da laboratorio Redirigo sempre vestiti robusti Posso resistere a temperatura estrema Devo anche garantirmi Una certa libertà di movimento Salto potrei chiedere Capisco il tuo camice bianco Abbia tanti pregi Ma non hai mai pensato A indossare anche Qualcos'altro più alla moda? Bello cambiare stile ogni tanto Un bel abito lungo Ti sarebbe in canto Ho detto abito lungo per caso Allora parlate con noi Non indosseremo altro Mi sembrano accappatoi Quelli che indossate Scherzo scherzo Siete splendidi Ma cosa? Che pensi in genio? Comunque fatemi riflette Potrei provare qualcosa di nuovo Magari qualcosa di nero Solo esclusivamente Veri bene alla scienza ovviamente Ma certo Ti crediamo Oh tu non indossi mai niente Dora stella? Ma che dici? Non vedi che belle scarpe Che porto? Cioè volevo dire La tua tonalità di giallo È incantevole Ecco tutto Non sarebbe meglio specificare Che anche le scarpe Fanno parte dell'abbigliamento E tu indossi solo quelle Il bucato per te Non deve essere un grosso problema Logicamente Beh sono così Solo temporaneamente In realtà sono di una bellezza stellare Vero dici di più Però prima vorrei sapere Che stile piace a Condina? Le vestite e il cappello Sono abbinamente equilibrato Alcuni potrebbero definire La vera modaiola Se mi passate il termine O da un nostro dialogo In questi giorni Glielo chiederemo E voi che mi dite? A me basta un bel fiocco rosso Passione per essere al top Non mi serve altro Chi la pensa come me? Io io Quel fiocco è la fine del mondo Infine sentiamo cosa pensa La nostra adorata principessa Pice Qualche stile vorrebbe provare Il mio interesse scientifico Ci mancherebbe Ecco io Un abito rosa e una corona Sono difficili da abbattere Però dipende anche Dalla situazione in cui mi trovo Non è raro che decidi Cambiare completamente Il mio stile abbigliamento Però adesso basta Con le chiacchiere Avete idea Di quanto possa essere variegato Il guardaroba di Pice? Serio Dove ci chiamo Ancoraggio Netti si parte Ricevuto Però ho un talento naturale Cambiare discorso Ehi Stai orrigliando per caso? Non si fa ragazzi Dai andiamocene Ah Luigi Presus Mi hanno detto chiaramente Non orrigliare La nostra conversazione Comunque si ecco qualcosa per voi La fine ci siamo messi a parlare Di moda Quindi la prossima volta Sarete voi A parlarci del vostro Abigliamento perfetto Si sarà a divertirsi Li saluto Fagiolo fratelli Oh Fungo max per due Che figata Vabbè Più o meno ne valsa la pena Certo è stato un po' Doloroso Diciamo così Gli ha più uno O No A Luigi Sì assolutamente Ok Ok Beh Io direi che possiamo salvare Credo che sia il momento Diciamo Ma che diavolo? È la miseria! Apparenze, se i genitori ci saranno... Che bellezze! Grazie! 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 Avvicinatevi tutti! Ho saltato tutto direttamente, perdonatemi ragazzi! Grazie! Vedo che vi state godendo i festeggiamenti! Ma purtroppo le celebrazioni sono quasi giunte al termine! Il nostro ultimo ospite, altri non è che il noto maestro di baldanza! Fotonio! Oh no lui! Grazie, grazie a tutti! Che onore esibirmi in questa circostanza! Ehi, mi riconosco quei baffoni stroboscopici, sono Mario e Luigi! Venite qui! Oh no, adesso mi fa ballare, vero? Di solito le mie abili movenze, la lattazione numero uno è un spettacolo che si rispetti! Ma sbaglio voi due siete amici degli sposi! Ora lascio a voi l'onore di aprire le danze! Musica, pronti? Vai! Non mi ricordo assolutamente cosa dovevo fare! Oh! Haha! Ok, sì, ho fatto! Che esibizione rovente! Mi batte forte il cuore! Ho i brividi dell'emozione! E ora prepariamoci a concludere le celebrazioni Questa volta per davvero Lascio la parola agli sposi Grazie a tutti di essere venuti Come sapete eravamo determinatissimi a sposarci Ma noi eravamo sicuri che questo matrimonio avrebbe avuto molta approvazione Tutti sanno che te artesi e glacesi non corre buon sangue Quindi il fatto di avervi qui e ricevere il vostro appoggio Ci scalda ancora di più il cuore Vi auguriamo che il rapporto dei nostri popoli sia sempre più caloroso Dobbiamo diventare un modello da seguire Guarda in avanti, sui nostri popoli splenderà Fiamma della pace Discorso esemplare Ora, come prova del vostro amore e rinnovate le gambe dei nostri popoli Potete recitare i voti Al freddo Chi ammetta Con me adesso succede qualcosa Chi amm sacrifice Ma cosa tuckere Chi amm Chi amm Chi amm Cosa? Che sta capitando? Ah, anche l'albero reagisce Ah, ok Anche il centralbero sembra augurarvi il meglio per questo capitolo della vostra vita Oh, il papà di Fiammetta Ah, anche quello di Alfredo, è stato curato A volte siamo un po' pesanti, ma oggi dobbiamo essere più leggeri Vesteggiamo Lunga vita al principe Alfredo E altrettanto alla principessa Fiammetta Voglio proprio visitare Geloria E io farò un salto all'Avoria Spettacolo per gli occhi Auguro tanta serenità a Ardesi e Glacesi Yeah, popoli rapacificati Che tsunami di tenerezza Che matrimonio romantico Ha sempre piacere vedere persone felici Gli Ardesi e Glacesi sono diventati amici Ora non ci resta che raggiungere il prossimo faro Mario, ciurma, vi aspetto tutti al telescopio sull'isola Solcamari Che succede? Che è successo? Si è aperto il passaggio verso una nuova corrente Stiamo avvicinando all'isola del faro Ok Ottimo Meglio riferirlo anche a Condina Eh? C'è da qualche parte Condina? Oh no, di nuovo è andata Mi tratterò un po' sull'isola Gelavica Condina non riesce a starsene ferma a quanto pare Non voglio che andiate sull'isola del faro senza di lei Perché non la seguiamo e le parliamo? Le saremo dopo all'isola del faro Va bene, va bene, va bene Così sia La fettiamo per salvare Eccola qui Sì, è piena di altre cose, altre missioni Veramente non ce la posso fare Come ho detto, compensiamo con più scontri Sulle isole nuove che visitiamo Mentre mandiamo avanti la storia Salve Sa di cosa stanno parlando Condina e gli sposini? Ciao Condina Grazie di essere venuta al matrimonio Non potevo mancare È stata una cerimonia davvero meravigliosa Per ringraziarti daremo sfoggio alla nostra ospitalità Chiamate il cuoco Oh, non è il caso, davvero Non mi è tornato in mente quella volta che venni qui È passato molto tempo da allora L'elettria non era ancora divisa Cosette mi portò qui Infatti mi sembrava strano che non fosse un momento storia Wow, c'è la neve subito vicino C'è la lava È strano Fa freddo però fa anche caldo Ecco, ora si gela Oh, condina le tue mani Tieni, metti questi guanti Oh, grazie, come sono soffici Tengono un po' più caldo Eh, che ricordo tenero Mi hai fatto emozionare Sai, la tua storia mi ha ricordato un po' il mio primo incontro con Fiammetta Mi riferisci a quando cercai di intrufolarmi a Gelavica Per poco non ci lasciavo le penne Per fortuna c'era Alfredo Anche lui mi dì dei suoi guanti Che caro Peccato solo che non mi entrassero Per forza erano fatti su misura per le mie mani Non per le tue Alfredo era così gentile E la sua innocenza mi faceva tenerezza Quello fu il momento in cui mi innamorai di lui Wow L'istoria è romantica Come vedi abbiamo in tambe dei preziosi ricordi legati ai guanti Che caro In ora che ci penso Mario e Luigi sono stati grande aiuto Ti merito un bel paio di guanti come regalo di ringraziamento Ti spiegherò come si fanno Ottima idea Varebbe fantastico Facci sapere se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti È l'importante compito di riunire le lettere dopo tutto Nelle lettere in nero come te sarei in grado di riaccendere i fari Metticela tutta Farò il tifo per te da dietro delle quinte Buona fortuna E non c'è un regalo per me? Sembra giusto Mario? Aspetta è un aiutante volante alla mette geniale Ma non diamogli niente eh E non rompere le palle Maiale Volante Sgrunte Togliamo su noi sulla sua camera Aspetteremo con Dinalì Ecco bravo Signor Mario Signor Luigi Eccola qui Ecco io Ero sull'isola Gelavica E lo so che è un aspetto buffo ma Guardate Fiammette e gli altri mi hanno aiutato a realizzare questi guanti No per voi Spero che vi piacciano I guanti di condina Ok E sarebbero Vabbè No vediamo come sono Condinuccia I miei guanti dove sono? Come? Oh perdonami Non ho avuto il tempo di farteli Silenzio maiale Scherzavo scherzavo Abbiamo preparato le muffole speciali su misura per te Davvero? Sì da maiale Ecco a te preso Se te le meriti Perché sei un vero amico Un vero amico maiale volante Condina mi farei russire Siamo pronti a raggiungere l'isola del faro E scoprire la nostra prossima destinazione? Sì Fiammette al freddo Mi hanno detto di darvi questo Spina difesa termica Ah ok Vabbè proteggervi alle scottature dal congelamento È una specie di porta fortuna Aspetto vicino a Telescopio Allora Adesso diamo un po' Un'occhiata Sì vabbè Le missioni secondarie ormai cominciano a essere una marea Non me ne frega niente No scusate Volevo dire questo Sì Quanti di condina? Ah No Decisamente no infatti E allora Aspetta un po' Explosione Bam Facciamo un altro salvataggio Va Perfetto Ok Bene gente Direi che ci possiamo fermare qua con questo episodio Prossimo episodio Andiamo diretti al faro Credo A meno che non ci sia qualcosa da fare Ma non penso E dopo di che vediamo Sono molto curioso di vedere che cosa succederà Perché c'è una prossima area che è mega gigante Quindi Non so quante altre isole ci saranno lì Non ne ho proprio idea Bene Alla prossima puntata Grazie a tutti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche al primo canale Seguitemi su Twitch Lasciate un bel like a questo video Se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Trovate come sempre tutti i link a miei social e community Come Instagram, Telegram e TikTok Tutti i link per supportare il canale Tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming E il link a Patreon Link alla playlist Con tutti quanti i video Della serie di Mario e Luigi Fraternauti Alla carica E anche il link per acquistare il gioco E se lo acquistate tramite questo link Aiutate e supportate moltissimo il canale D'accordo gente? A presto